adesso parleremo di maria sofia allora cosa è successo ragazzi partiamo dai maiali che è sempre ottimo no allora maiali rifugio cuori liberi cos'è successo e perché sono stati uccisi dieci maiali sono stati abbattuti ieri mattina bell'articolo qualche giorno fa in un rifugio in provincia di pavia tra le proteste di diverse associazioni animaliste e c'era anche maria sofia tra i protestanti ok ecco cosa è successo decine di agenti della polizia di stato in assetto antisommossa insieme al personale dell'azienda sanitaria locale si sono recati al rifugio cuori liberi di sairano in provincia di pavia per abbattere tutti i maiali presenti a cercare di impedire l'esecuzione decine di animalisti che però non sono riusciti nell'intento ci sono stati anche degli attimi di tensione con il bilancio finale che parla di tre animalisti lievemente feriti e medicati sul posto dal personale del 118 già inizia ad essere ignoranti in chat non non sapendo la storia che hanno scritto mo sti grazie 10 maiali hanno fatto bene l'asl ha dato esecuzione ad un'ordinanza dell'agenzia per la tutela della salute di pavia che ha previsto l'abbattimento dei dieci maiali ospitati nella struttura precisazione questa struttura non è una struttura per abbattere i maiali il rifugio è un rifugio dove vivono quindi non sono diciamo che lo scandalo è nato anche perché questi non erano destinati al macello diciamo domestici chiamiamoli così ultimamente ci sta la peste suina che sta facendo molti danni a livello economico all'industria della carne e anche gli stessi animali poi agli stessi ovviamente muoiono e quindi si stanno adottando queste misure di abbattimento in molti allevamenti no laddove si presenta un rischio di epidemia diciamo no sì perché in allevamenti magari non è che ci stanno dieci maiali ce ne stanno centinaia si ammala uno a tappeto si possono ammala tutti quindi vanno a tagliarli come se te vengono ammazzati dieci cani a casa sì qua lo scandalo nasce dal fatto che come ha detto davide non è un allevamento intensivo è un rifugio è un posto dove ci stanno sti maiali che semplicemente stanno la a vivere eh sì è in privato è come se c'è dieci gatti e ci stanno a peste dei gatti in boccano a casa di boncina esatto gli animali domestici ammazzano vista così è un po greve hanno fatto evidentemente dei controlli di un certo tipo hanno detto eh no ci sono alcuni animali infetti non è vero dove sono le prove dove sono le prove di animali infetti dove sono dove sono ha fatto così pensavo di tu lo stai dicendo dove sono le prove no ti dico eh da quello che ho visto io c'era il dubbio che un paio di maiali all'interno di quel rifugio fossero vettori quindi potenziali trasmittenti quello hanno deciso io ovviamente uno non sono medico due non c'ho i dati dell'asl non so perché abbiano preso questa decisione mi sembra strano comunque che l'asl abbia deciso ammazziamo sti sti poveri maiali senza una ragione questo è quello che ho letto io poi non lo so informiamoci di più è la prima domanda che mi sono fatto se sarà necessario presumo abbiano fatto gli animalisti dobbiamo sapere tutto eh io mi sono formato un po gli animalisti hanno detto non c'è la certezza che siano infetti all'interno di questo rifugio per quello che hanno protestato esatto evidentemente l'asl che comunque ragiona per eh riduzione del pericolo alle volte anche magari andando a creare dei danni però pensando al danno maggiore potenziale cioè loro hanno detto trentamila trentatremila ne abbiamo già uccisi lasciare in vita questi dieci con la possibilità di un'ulteriore diffusione magari dovendo poi uccidere altri animali a prescindere poi dalla destinazione del macello o meno è evidentemente un rischio che non possiamo correre e questa è stata la decisione dell'asl e gli animalisti invece hanno detto no questi non vanno uccisi e si sono opposti comunque secondo me a me sembra pure un po' di pigrizia qua eh perché mo voi me volete di che non c'è la possibilità di separare sti maiali e accertarsi dell'infezione certo cioè tu hai trentamila maiali se c'hai il dubbio che di maiali sono malati invece di ammazzarli subito levali dal cazzo mettili da un'altra parte e fai dovuti controlli ma se ne hai trentamila magari è difficile fare controlli e posso pure capire abbattere ammazzarli senza avere la certezza è assurdo no secondo me uno deve adottare delle misure per avere poi una certezza se poi un animale è malato l'abbattimento ci potrebbe pure star no però mi è sembrato un approccio un po' pigro secondo me se poteva fare di più se ci sono dieci esemplari in questi dieci cinque sopportatori sani e gli altri sono sani se rimangono sempre lì non succede niente a rigor di logica le brutte diventano tutti i portatori sani il fatto dovrebbero magari far un botto dei controlli cioè il fatto è che potrebbero magari diventare infetti e infettare qualche persona se c'è il rischio le persone uscendo possono infettare altre persone che infettano poi maiali però il fatto è che secondo me si applicano delle regole molto dure perché giustamente c'è un'epidemia secondo me conoscendo gli animalisti è proprio il fatto etico pure che questi te imboccano a casa te piano gli animali e ti li ammazzano e tu non puoi fare nulla per fermarli già solo per quello protesterebbero per quanto uno dice giusto però il fatto che te imboccano i cellerini a casa te buttano da una parte te piano gli animali e ti ammazzano poi quello è l'altro aspetto di cui parleremo perché a quanto pare ci sono stati anche illeciti da parte dei forze dell'ordine ah greve quello è un altro discorso a parte però quello che dicevo io secondo me la ASL ragiona per evitare qualsiasi potenziale pericolo come l'allevamento e gli animalista invece ragiona no facciamo di tutto per tutelare gli animali al pari degli esseri umani ogni vita è importante sì ecco quello c'è anche l'argomentazione da fare mi dispiace che questi dieci esemplari in un rifugio sono diversi da dieci esemplari in un mattatoio bravo è quello sì sì sono domestici no c'è sono animali di compagnia trattati come proprio membri della famiglia me ne posso dire loro ti potrebbero dire io mi occupo di separarli magari ci avranno provato a mettersi d'accordo e hanno detto no non si può fare ma magari hanno però sto pensavo che hai fatto l'esempio dei gatti no io non c'ho più il cane però fosse stato ancora in vita il cane mio avessero messo una legge così facilmente da dobbiamo sopprimere tutti i cani d'italia io penso che piavo il mio cane scappavo io sono leggendo per le foreste rimanevo dieci anni in forse finché sopravviveva nel nulla cioè ma che siamo matti certo non avrebbero mai separato lo capisco è greve come cosa gridiamo e scherziamo no però capirebbe la stessa cosa pure se si tratta dei esseri umani guardiamo per esempio i vari film dove scoppiano che ne so epidemie cose così che fai uno perché alla fine devi calcolare che la vita dei pochi per la vita dei tanti quindi per quanto sia brutta la morte c'è una cosa che salva delle vite è comunque morte ma stessa al va delle vite per quello io prima ho parlato dei accertamenti perché di base è giusto come lavoro tocca vedere se hanno agito bene ragazzi ma ci abbiamo avuto un esempio gigantesco col covi per i covi non avremmo ragionato così secondo me però abbiamo avuto un esempio è meglio limitare la libertà limitando dei rischi di contagio con tutti gli interrogativi del caso ma ci potrà essere un'altra via che non sia la morte devi per forza accettare un ordine da un'autorità ma certo che c'è ma infatti secondo me qua si tratta sembra brutto dirlo pure avventato ma anche vedete un discorso economico che magari costa infinitamente meno sopprime un animale perché per loro è solo una bestia piuttosto che adotta tutte quante cose che si farebbe per dire con essere umano perché se invece i 10 maiali erano 10 esseri umani che potevano contaminare altri esseri umani e falli morì non è che ti ammazzavano te mettevano magari in un posto con degli investimenti era il vero il maiale a questi non gliene fregava un cazzo quindi per questo io sto con i coi 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 gli animalisti per male si trovano in un luogo permanente che accoglie animali non destinati alla filiera alimentare chiedere una moratoria e trovare una soluzione valida e alternativa che salvaguardasse la vita dei suini perché perché è un caso specifico questo quindi ci può pure stare un 10 aspettate un attimo è in caso particolare certo anche che poi non ti immagni questi quindi in teoria gli appelli però sono rimasti inascoltati e ieri si è portato al termine quanto deciso dall'ordinanza carabinieri di giri del fuoco polizia polizia provinciale digos antisommossa e scientifica hanno manganellato e hanno dato calci e pugni uno di loro mi ha chiamata handicappata mentre mi strattonava il braccio per allontanarmi hanno stretto i testicoli di un nostro compagno hanno dato una botta in mezzo al seno alla nostra compagna stavano per fumare all'interno del rifugio per fortuna li abbiamo fermati hanno dato uno schiaffo in faccia una persona a terra che stava esercitando resistenza passiva stavano tagliando la rete dove c'erano le bacche che se fossero scappate sarebbero diventate dettori per la testa suina e sapete cosa dicevano che stavano solo seguendo degli ordini io urlando in lacrime parlavo di come anna arendt nel suo libro la banalità del male trattasse proprio di un uomo che allo stesso modo non stava facendo nient'altro che inseguire degli ordini quell'uomo era adolfotto eifman un nazista responsabile della morte di milioni di innocenti le lotte sono cambiate ma gli uomini che ci danno motivo di continuare a combatterle sono sempre gli stessi continueremo a resistere fino a che tutti gli animali non saranno liberi ha detto di non avere alcuna ragione per non eseguire gli ordini è la stessa cosa anche se in periodi storici diversi capitelo questo e per favore non eseguite gli ordini non fate ripetere la storia le persone che hanno cambiato la legge ingiusta erano persone come noi che si sono fatte ammazzare picchiare per un ideale voi sorridete perché non volete ascoltare la verità perché fa male pure a voi voi vi state difendendo dalla verità provate ad ascoltarci capite che la cosa giusta non è eseguire gli ordini ma ti fanno vedere le forze dell'ordine mi hanno portato via dal santino ma infatti io sono legge cringe posso dire una cosa? sono scemi regà non capisco allora regà mi avete rotto i coglioni? ma in realtà è una delle rare volte che non è cringe fuori luogo spero che pochi uomini che si oppongono hanno cambiato il mondo è sempre 5-6 cioè 100 persone che si oppongono quello che diceva all'inizio partono sempre prevenuti ovviamente il paragone è eccessivo però è quello che abbiamo detto pure in una scorsa puntata di Creepy Cerbero cioè noi adesso siamo abituati a queste regole a questi canoni quindi vediamo gli animali chi più chi meno ovviamente come inferiori anche per ragioni di sopravvivenza quello che volete ma non abbiamo lo stesso approccio che abbiamo con altri esseri viventi cioè ci sono animali di serie A, animali di serie B ovviamente classe super A sono i nostri cari simili esseri umani però se noi applichiamo questo concetto guardandoci all'indietro tantissime cose che all'epoca sembravano scontate ovvie anche con la legge a supporto viste oggi sono barbariche e non dobbiamo andare troppo indietro con gli anni quindi un discorso del genere fatto anche pacificamente secondo me cioè questa è una protesta legittima perché comunque ci sono dei dubbi su st'operazione parliamoci chiaro poi se l'ASLA ha deciso così ok ma ci sono dei dubbi la protesta legittima sta parlando urlando ovviamente per la situazione chiaramente quelli stanno col casco però in maniera super pacifica con un discorso secondo me logico è pure giusto logico poi magari nella fattispecie avrà avuto ragione l'ASLA io ripeto non lo so non sono un medico non ho sotto mano i fogli non so il pericolo maggiore minore però di base secondo me è un concetto sano anche quello di responsabilizzare chi esegue l'ordine ma voglio e lo diceva pure il buon Pasolini senza scomodare Ann Arendt ma infatti c'ha ragione lei qua questa è una bella scena io qua sto con lei qua ma che scherzo è una de-responsabilizzazione a tutto tondo perché chi decide l'ordine è un uomo senza volto è gente l'ASLA chi cazzo è? chi è la persona che ha deciso sta cosa? e chi esegue l'ordine c'ha la difesa ha sentito un chiuso mossa sembra evidentemente si de-responsabilizza perché sta solo eseguendo un ordine quindi magari è un sistema di de-responsabilizzazione totale specie se uno magari vorrebbe arrivare ad un accordo ad un compromesso neanche ci può arrivare c'è un muro con chi devo parlare per un compromesso la maggior parte dei crimini penso siano nati da questo problema infatti è quella la forza degli eserciti, dei reggimenti nel senso che l'uomo quando riesce a de-responsabilizzarsi è in grado di fare atrocità e questo non solo Anna Arendt, non Pasolini ma anche alcuni esperimenti che sono stati fatti nel corso del tempo hanno dimostrato che se tu non vedi quello che stai facendo o a chi lo stai facendo sei in grado potenzialmente di premere un tasto con una scarica elettrica potentissima